Non c'è tregua, la quarta ondata oltre ai contagi continui miete ancora vittime, tre nelle ultime 24 ore, due di gele, un paziente di niscemi e sono in aumento i ricoveri. Al momento sono 75 ricoverati in provincia di Caltanissetta, dei quali 9 in terapia intensiva, con gli ospedali già in affanno. A Caltanissetta tutti i posti sono pieni e dunque 7 pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali. Sono 986 pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 452 a Gela, 149 a Caltanissetta e gli altri nei 22 paesi della provincia. E se i guariti a Caltanissetta sono 86, il numero degli infetti in un giorno è il doppio, un gap troppo alto per intravedere una luce, un barlume di ripresa. Sono 1.400 in tutto i positivi in città, dei quali 19 ricoverati nel reparto di malattie infettive. Il picco massimo sarà tra 15 giorni, dicono gli esperti, quindi la curva di positività è in forte ascesa.